benvenuti ringrazio innanzitutto la galeria civica d'arte moderna di torino per questi 15 minuti di celebrità che voglio trasformare in 15 minuti di intensità perché per me la ricerca delle parole delle immagini delle scene di ogni passo di scrittura sono delle strabilianti intensità dell'anima questo è il mio primo il romanzo l'inizio della fine storia di famiglia e oggi sono qui per leggervi il primo capitolo federica sei anni sono in arrivo agli anni 60 negli occhi la visione di una casa di campagna con i suoi genitori in un giorno di sole d'estate la mamma in cucina lei in giro per casa una voce la dirige su una soffitta polverosa sale una scala di legno apre una botola ed entra in un sottotetto vede ragnatele e tele bianchi diventati di colore indefinito federica si guarda intorno ed è rapita da quel posto sembra magica su una parete c'è appeso una foto di famiglia in bianco e nero con vestiti d'epoca pettinature buffe arruffate e cotonate prende la cornice la sfila toglie via la foto istintivamente la piega e la mette nella tasca del suo vestitino ampio a fiori con una tasca grande sul davanti scende le scale raggiunge la mamma il papà e parla con loro mamma è tutto così bello qui voglio ritornarci una tavola imbandita con tovaglia scacchi fuori dal casolare con bibite fresche ed insalate la mamma di federica narra di quel casolare nella campagna fuori della città di montepulciano lei andava a trascorrere le sue vacanze estive con la famiglia quel casolare i suoi genitori gliel'hanno donato quando si è sposata oggi facciamo una passeggiata va bene mamma risponde federica questo è il primo passaggio di federica quando era piccola poi riprende inevitabilmente il racconto in un'età più adulta prendono un vecchio tandem ancora in buone condizioni da uno stanzino si mette su davanti roberto e federica dietro così vedi meglio dice federica e ti descrivo tutto le strade elasticate di san pietrini vicoli stretti con i suoi palazzi del cinquecento l'aria delicata che accarezza il viso la leggera pedalata e federica che riflette mi piace la grande città la folle divertimenti e locali ma la magia regna in questo posto dove ritrovo la serenità ricordo ancora la prima volta quando avevo sei anni la mia mamma mi ha portato in giro per queste strade ecco davanti a noi c'è la torre pulcinella allora mi sembrava enorme che si alzava al cielo ed io un pulcino questo è palazzo venturi e l'arco della cavina mia mamma era una donna speciale sono cresciuta con i suoi occhi e i suoi discorsi a volte senza tempo legate a metafore tutte mie che sembravano assurde in quel momento giustissime qualche mese dopo ricordo anche quando mi portò quel pomeriggio anche al duomo eccolo entriamo indica col dito quella è la statua il trittico dell'assunzione la madonna col bambino roberto si ferma la guarda e commenta tua mamma doveva essere una donna incredibile ecco perché tu sei così federica lo prende per mano e guardandolo risponde vieni con me ti porto alle cantine monumentali i vigneti si ergono maestosi su queste colline e qui c'è il loro frutto il vino lo straordinario vino di montepulciano compriamolo nella bottiglia lo berremo stasera certo come vuoi tu risponde roberto a cena due calici di vino rosso che ondeggiano delicatamente nei bicchieri sorretti da due mani di giovani innamorati di loro stessi e del mondo parole al vento e morse su pietanze delicate rendono la cena di roberto e federica la loro prima cena davvero romantica da quando si sono conosciuti da quando i loro sguardi si sono incrociati in quell'aula di diritto della sapienza di roma sapevo che tutto sarebbe stato speciale questo casolare ha qualcosa di magnetico per me è davvero bello federica sono felice di stare qui con te si odono gli uccelli cantare e l'alba della ripartenza federica apre gli occhi e resta un momento in silenzio guarda il viso addormentato di roberto biondo con i capelli lunghi gli occhi gli occhi tondi le spalle ampie si alza e va in bagno il suo volto è rilassato e felice i suoi capelli un po' arruffati di un leggero tocco di ricciolo naturale la sua sfumatura di castano rossiccio gli occhi castano verde che brillano specchio si spoglie apre l'acqua si mette sotto e vede la sua pancia un po' arrotondata e bene piatta del solito i suoi piedi che battono sull'acqua che scivola dalla testa una sinfonia di musica che le resta in bocca canticchiando sente bussare alla porta roberto entra a salutarla e darle un bacio sulla guancia potevi svegliarmi le dice e lei dormivi così bene e poi ne ho approfittato per rilassarmi sotto la doccia nella piccola fiat 500 blu scuro ripartono per roma federica ripone le valigie in camera il suo papà la saluta con un bacio bentornata è andato tutto bene sì papà come ai vecchi tempi come quando c'era la mamma il volto di lui si rattrista e lei subito esclama oh dio papà scusami non volevo e marcello risponde non preoccuparti figlia mia non poteva salire roberto domani è un esame stasera deve studiare vado in camera ad esfare le valigie nella sua camera c'è un letto a baldacchino uno scrittoio antico un armadio grande nero apre le ante e dentro tutto un disordine si siede per terra e piange mamma mi manchi tanto il silenzio è insopportabile e accende la radio guarda il calendario sul comodino piccolo con i fiori diversi per ogni mese le margherite il simbolo del mese di giugno mamma sono sei mesi che non ci sei più eleonora la sua mamma sull'accordo anulare di rientro in città lo schianto la fine tutto racchiuso in un'unica parola morte il pomeriggio di quel giorno prima andava di fretta e non le ha detto nemmeno ti voglio bene poi tutto è diventato inutile resta solo il silenzio con il quale si fa pugni mentre si piange poi il pensiero la riporta a lei alla ragione e a dire vivi federica così mi avresti detto tu e così farò mamma come sempre in ritardo corre lungo i viali della facoltà entra nell'aula di statistica roberto sta conferendo lei si siete sui banchi poco distanti dalla grande cattedra gli guarda la gamba come sempre trema ma la voce sicura e chiara i minuti scorrono come se fossero interminabili il volto del professore sembra rilassato e benevolo tutto sta andando per il meglio la firma sul foglio i saluti la stretta di mano poi si gira guarda federica le urla 30 ripete 30 si abbracciano e sorridono siamo quasi alla fine di questo percorso insieme voglio costruire un futuro con te il nostro studio legale i bambini ed una casa tutta nostra federica si emoziona è la prima volta che lo dice così esplicitamente manca davvero poco alla fine degli esami federica colloquio con la sua insegnante per la tesina mentre roberto è ritornato a casa sua a dormire abitano insieme alle loro rispettive famiglie nel centro di roma roberto una sorella già sposata con un bambino di pochi mesi un insegnante vive a londra alcune volte parlando roberto le ha detto di volerci andare così federica spera di sostenere l'esame con la discussione della tesi prima dell'estate e partire con lui apre il suo diario di appunti sulla scrivania mentre la musica suona nella stanza una canzone rock rilegge la dedica sulla prima pagina della sua tesi a mia madre la cosa più bella della mia vita la persona più presente nella mia testa l'anima immortale della mia esistenza terrena la sua tesi di laurea che chiude gli studi parla di questo i reati previsti dal codice della strada lì ti ho perso sull'asfalto e lì voglio ritrovarti amata mamma così come non smetterò mai di cercare quella for grigia targata messina l'aula del tribunale di roma nessuna controparte nessuno è stato identificato in quello scambio un testimone dice di aver attraversato il raccordo anulare e prima dell'uscita di tordecenci il giorno 12 gennaio 1976 alle ore 8 e 35 vede una Volkswagen Polo di colore blu con la parte anteriore accartocciata sul guardrail una donna con la testa sul volante sangue dappertutto e lei morta una zagoma di un uomo alto con spalle larghe con una maglia a righe raggiunge una fort grigia targata messina sale in macchina e si allontana il dolore ancora forte e Federica volebbe solo dimenticare ma non riesce a non pensare a ripensare a quell'uomo domani è il mio compleanno ripete ad alta voce compio 24 anni senza di lei e questo non è comprensibile non è accettabile il destino della persona è dette incontri di vita sbagliati persone che regnano sovrane nel vano tentativo di superare la propria codardia ma non sanno fare altro che scappare sul foglio cade una lacrima si forma un cerchio sollevata dall'umito della carta che raccoglie quel momento di respirazione prende la borsa e esce di casa sbattendo la porta commissariato di zona ispettore pino cortese la saluta le chiedo in merito della ricerca di quell'auto l'ispettore risponde signorina de lorenzo non abbiamo notizie abbiamo cercato tra le denunce di furto ma fallito quel tentativo io non le prometto niente forse quella situazione è stato solo un crudele destino federica alterata nella voce gli ricorda che lui si è avvicinato all'auto e poi è scappato senza chiedere aiuto chi può fare una cosa simile me lo spiega il poliziotto la fa sedere e dice si calmi cercherò ancora federica lo saluta ed esce dal commissariato lungo le scale ripete in testa tu conoscevi mia madre bastardo io ti troverò grazie 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 grazie